Nuova location per l'agenda Provenza, Alvin Italy 2013, 47 edizione, nuova location, nuovo prodotto, il nuovo nato, il neonato in casa Provenza. Fabio Contato è il titolare, il patron di questa azienda che dall'inizio con suo papà Walter l'ha portata in avanti, sempre in alto. Quest'anno nuova location, nuova situazione in un padiglione dei grandi. Tu sei nella condizione che sai che da parte nostra l'azienda Provenza, in alcuni anni che desiderava essere in questo padiglione, il Venitere è molto ambito, sono tante le presenze. Oggi abbiamo dovuto fare una scelta ben precisa di essere presenti con un piccolo stand al padiglione Lombardia e lo stand invece ufficiale nel padiglione 7, la corsia B7. Sicuramente è una cosa nuova, un nuovo allestimento, nuovi colori, l'oro e il bianco, i due colori ufficiali dell'azienda, vengono messi in evidenza perché poi il Venitere non è solo il contatto specifico ma è esattamente la pubblicità, il nome che gira con tantissime persone che gravitano in questo padiglione. Quindi per me è stata una cosa che comunque ho apprezzato, i risultati ci sono stati. Diciamo che un padiglione così eterogeneo con la Toscana, con il Piemonte, con nomi antisonanti, anche Lugana che oggi ritengo essere diventato un vino importante, pure lui, è giusto che sia in ottima compagnia. Soprattutto con Prestige, l'ultimo arrivato. Sì, mi ha anticipato il Lugana Prestige con l'edizione Camaiol dove il nome del vecchio... Si dice Camaiol, scusa. Sì, giustamente Luigi, lui voleva evidenziare le espressioni dell'Italia brecciana, il Camaiol è proprio il territorio, la zona quindi dell'Ugana, l'argilla e Prestige è proprio questo vino perché vogliamo mettere in evidenza la qualità, l'eleganza e ritengo che questo nome possa abbracciare tutte queste cose. Quindi l'auspicio è che sia apprezzato la clientela e quindi io direi un saluto e un brindisi per questo vino. Grazie a tutti.